Enzo De Vito starebbe per mollare la presa su Adriano Montalto. Le richieste esose dell'attaccante e della regina biennale ad oltre 200.000 euro spingerebbero Lavellino a fare un passo indietro. Il club non intende infatti partecipare ad aste per un calciatore di oltre 30 anni che piace anche a Reggiana e Foggia. Nel suo tempo domani mattina ci sarà l'incontro con la Turris per definire il passaggio di Riccardo Maniera ai Corallini. Il centravanti partenopeo è da tempo nel mirino del duo Flamia-Primi-Cile, anche se pare che il neotecnico Padalino non sia troppo convinto. Non discrezioni proveniente da Torre, i bianco-rossi starebbero puntando anche ad Antonio Matera che piace pure al Casarano, difficile che il giocatore però scende in D. Andrea Sbraga ha ricevuto una proposta dal Messina ma il centrale difensivo l'ha rispedita subito al mittente. Nessuna proposta per Gennaro Scognamiglio che rischia di restare all'ombra del partenio, mentre Francesco Forte per muoversi da Avellino vorrebbe un contratto biennale. Gabriele Bernardotto, su cui ci sono sempre Torres, San Giuliano e Piacenza Cerignola, non sembrerebbe sicuro di salutare. L'Avellino in ogni caso ha intenzione di privarsi alla punta a titolo definitivo. Qualora l'ex Vibonese dovesse accettare le avanze di qualche formazione interessata, al suo posto potrebbe arrivare il giovane Lorenzo De Stefano, classe 2002 della Sampdoria 31 reti e 16 assist con la primavera blu cerchiata. Nel frattempo si segue sempre l'evolversi della situazione relativa a Mirko Maric, centra avanti in forza al Monza. Spieghliro 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 Spieghliro